32 studenti piemontesi delle scuole medie superiori sono andati alla scoperta delle istituzioni europee di Bruxelles. Si tratta del viaggio studio per un gruppo di vincitori della 29esima edizione del concorso, organizzato dalla Consulta Europea del Consiglio Regionale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. La delegazione piemontese, accompagnata dal consigliere regionale Giovanni Negro, ha visitato il Parlamento, la Commissione Europea e alcuni punti di interesse storico-culturale della capitale belga.